ciao ragazzi in questo punto esatto della mappa in cima alla montagna siamo qua twin stack pass in cima alla montagna siamo esattamente sul sulla cima troviamo un loot che vi siete persi sicuro in questa cassetta di sicurezza vediamo cosa c'è dentro questo è un loot che dovrei ecco qua sacchetto di monete ma mazzo di banconote e un altro mazzo di banconote e il room dei pirati invecchiato ottima 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 cassetta ottimo loot gratuito disponibile dall'inizio del gioco in cima a questo monte la sotto c'è valentine ovviamente dovete salirci col cavallo arrivate fin qua